In questi giorni in uno dei vostri interventi ho sentito dire che i Romani hanno bisogno dell'approvazione del bilancio. Ebbene avete fallito perché vi siete ridotti a dicembre, le elezioni sono finite il 10 giugno 2013. Per mesi, questa aggiunta ha combinato poco o nulla, si è parlato per mesi di penalizzazione dei fori, abbiamo visto, come ha detto anche il consigliere Guardi, che questa aggiunta ha prodotto con gli atti che vanno dal 303 al 369, atti di assunzione di staff per il sindaco e per gli assessori, che costano circa 5 milioni di euro l'anno. Abbiamo visto questo film per mesi di penalizzazione dei fori, noi avevamo detto che non si sta facendo in maniera corretta, abbiamo visto come è stata gestita la vicenda del capo dei vigili, infine quella del concorso. Vi siete ridotti tardivamente ad affrontare il tema del bilancio, superando un termine essenziale come era quello del 30 novembre 2013, necessitando poi della proroga da parte del prefetto. Avendo solo una giustificazione, la situazione in cui questi gruppi, ex di livello ormai fantomati, hanno lasciato questa città. Una situazione devastante, oltre 800 milioni di euro, che loro ben conoscevano e che si sono visti bene dall'affrontare, evitando di fare un bilancio previsionale nei termini di legge. Quindi lasciando questa situazione a chi sarebbe poi venuto. Ed in questi giorni non abbiamo compreso l'atteggiamento da parte di questa parte della protezione. Fare decine di migliaia di emendamenti su un bilancio consultivo che sostanzialmente certificava che si era speso più di quello che si poteva sostanzialmente, che certificava il fallimento di questa precedente amministrazione, che ha fatto opposizione contro se stessa. Pensiamo che ci sia soltanto un gruppo di opposizione che esce a testa alta da questa sessione di guidaggio. Presidente, quando il Consigliere Rossin ci fuori nel nostro silenzio, non continuiamo. Ci siamo sempre stati da parte. Questo gruppo ha il 100% delle presenze in tutti e quattro i consiglieri, in tutti i consigli tenuti fino a oggi. Non abbiamo presentato decine di migliaia di emendamenti, non abbiamo fatto questo istruzionismo obiettivo, non abbiamo fatto le sceneggiate, le tarantelle che si sono viste da prima giornata, al limite le abbiamo filmate. Quindi... Non abbiamo. Abbiamo hanno fatto un grande interesse per dieci giorni. Il cos'hanno detto come avrebbero potuto coordinare bene questa città, solo che non si rendono conto che questa amministrazione, l'amministrazione dell'ex sindaco Le Magno e dell'ex vice sindaco Perviso, ha gravemente fallito, solo come un imprenditore che non si rende conto e che ricetta l'esfandimento di cui è responsabile. Detto ciò, ripeto, abbiamo fatto un'opposizione responsabile, abbiamo fatto un numero limitato di emendamenti, perché non aveva alcun senso fare decine di migliaia di emendamenti su un bilancio che di fatto è un costruttivo. Questo bilancio che va a sanare una situazione di 800 milioni di euro che questi signori hanno lasciato, l'occhio, l'ex sindaco Le Magno, l'ex sindaco Le Magno, le aveva teniste bene, aveva già fatto una conferenza il 19 febbraio 2013, in cui veniva un gruppo di 850 milioni, quindi lo aveva previsto bene, anche se in parte è derivante da una riduzione dei finanziamenti statali. Quindi, ripeto, abbiamo ritenuto corretto fare in questa maniera e fare un numero limitato di emendamenti. Quando i programmi, certamente, dopo che hanno parlato per 10 giorni, li fanno parlare anche noi, li siamo gravi. Quando il signore è bene di dare schiacci e calci in aula e ci fa parlare anche noi per 5 minuti, li siamo gravi. Quindi, dicevo, a fronte di un costruttivo ci è sembrato corretto fare così. Pensiamo che sia stato il modo corretto di fare posizione. Questo bilancio che loro lasciano, noi non lo accettiamo. vogliamo dire ai cittadini come si sta ponendo, come si sta risolvendo, diciamo, questa situazione finanziaria disastrosa che è stata lasciata. Lo si fa riaprendo la gestione confissariale e di questo rendiamo alto che, effettivamente, il provvedimento del governo è stativamente il DL126 del 31 ottobre 2013 che ha consentito questa manola che facciamo con due modalità con 115 milioni di euro di debiti precedenti al 2008 che vorrei mettere in gestione ministeriale, che andate a rimettere in gestione ministeriale, con 485 milioni di pagamenti già fatti che... Chiudo, Presidente, con 100 milioni presi dalla Regione Lazio, con una lettera di impegni del Presidente Singaretti, con talli a servizi essenziali, con anticipazioni di dividendi, con equimprismi finanziari di ogni genere. Questo è un bilancio di 6 miliardi che si regge sugli stuzzicaventi e che, soprattutto, andrà a gravare il suo cittadino, a cui allunghiamo tempi e imporre l'autore di questo numero. Quindi questo bilancio noi non lo voteremo, voteremo contrario. Grazie. Grazie.